Ciao a tutti e benvenuti a Gioca con me, giochi per bambini. Oggi vi mostro come creare un bagno schiuma con questa schiuma della Tinti. È una schiuma rossa, una mousse diciamo, e un esperimento è quello che proveremo, cioè mischiare questo composto con dell'acqua per fare proprio un vero e proprio bagno schiuma. Un bagno schiuma profumatissimo immagino. Quindi in questa ciotola metto la mia, quello che trovo all'interno della busta di Tinti, quindi questa schiuma rossa. Profuma anche tantissimo già, sicuramente Dope profumerà ancora di più. Questo è giusto un esperimento per farvi vedere come creare un bagno schiuma. Aggiungo un po' d'acqua. Vedete che già si crea la schiuma? Mmm, che meraviglia! Eccola qua, mescolo, mescolo, mescolo. In realtà questo sarebbe pronto per fare un bagno, no? Cioè, è quello che serve per farsi un bagno. Profuma tantissimo di fragola, è veramente buonissimo. E volevo farvi vedere questo piccolo esperimento perché ci teniamo, insomma, per farvi vedere che le cose che usiamo, a volte no, spesso abbiamo utilizzato questa, la marca, Tinti, e insomma funziona ed è funzionale anche. È un bagno schiuma buonissimo e se volete fare una sorpresa, no? Preparare una vasca piena di bagno schiuma profumato, potete usare anche questo. Ditemi se vi è piaciuto l'esperimento nei commenti, ricordatevi di iscriverci. Ciao!